buongiorno buongiorno eccoci qua come promesso e ma farvi vedere il pezzo e il procedimento di accensione della pirolitica dentro dentro la stufa economica ragazzi sono stra stra contenta perché con praticamente 4 kg 230 grammi di pellet io ho cucinato alla grande e la praticamente cioè questi 4 kg 2 c'è la durata del pellet e è fantastica 4 kg 230 grammi di pellet durano 6 ore ha un'autonomia di 6 ore e cioè vedi io ho cucinato poi ho scaldato un appartamento e poi ho lasciato ovviamente spegnere cioè tutto come avevamo detto e dopo ho ricaricato di nuovo la spegnere praticamente completamente che non ci siano delle braccine cioè a parte che cade tutto attraverso la griglia trovate tutto nel nel vano cenere ma vi dico che è fantastico ora vi faccio vedere il pezzo che ho rovesciato ora guardiamo ecco questo qua sarebbe il coperchio che prima io l'avevo messo così ve lo ricordate prima io avevo messo il pezzo così il coperchio della pirolitica ve la ricordate la pirolitica vi ho messo il link ve lo rimetto il link questa pirolitica guardiamo di mettere il flash guardate quello che c'è i resti che sono rimasti di dell'accensione di stanotte quindi vedete che c'è tutto pirolizzato il pellet ora vi faccio un zoom questo sarebbero i resti cioè non rimane praticamente nulla dentro cioè due cucchiaiate di pelle pirolitica ok ora vi faccio vedere il vano cenere che io non l'ho svuotato ma anche dentro cioè c'era un po di cenere di legna ma che avevo lasciato ok qualche chicchino qui però questo questa praticamente è la cenere di quattro sei accensioni vedete quello che rimane cioè non rimane più c'è ancora un po vedete di stanotte vedete le scintilline vedete c'è rimasto qualcosa di stanotte però c'è sono sei accensioni e adesso pulirò tutto ma anche giù cioè non deve rimanere assolutamente nulla di niente ora per un attimo poi vi faccio vedere come ho riempito fuori è un vento pazzesco vediamo se resiste e non si spegne ora vi faccio vedere il resto ecco ho dato una pulita generale anche sopra il forno e per vedere esattamente quanti resi vedete che non c'è assolutamente cenere abbiamo pulito anche qui sotto il vano cenere proprio esattamente per vedere quanta cenere ora carichiamo con il pellet ecco ho usato un quarto di sacco di pellet e l'ho messo qui contiene proprio 4 kg 250 4 kg e 200 grammi ora accendiamo ecco io uso l'olio di frittura e la carta ho messo perché c'è del vento allora vediamo se riesco accenderla poi in diretta ecco l'abbiamo accesa adesso copriamo tutto ok togliamo via tutto ora abbiamo chiuso lasciato leggermente l'aria del tiraggio della stufa leggermente aperta dopo la chiudiamo poi vedete che c'è l'olio sentite il vento e ora guardiamo guardiamo si è acceso un gran tiraggio abbiamo chiuso qui lasciato leggermente però dobbiamo chiudere perché c'è troppo vento lasciato un pochino aperto se no ce lo spegne eh c'è un gran tiraggio vedete se è meglio chiuderlo ok andiamo il coperchio vedete un pochino non è proprio ermetico ermetico si vede la fiamma ecco queste eccoci qua questa è l'accensione è il niente vi ho fatto vedere il residuo di cenere ora cioè vi dico la devo testare col vento metto così e lo devo testare col vento perché per vedere fuori è un vento pazzesco per vedere se si spegne o no però per il momento no a un buon tiraggio vediamo mi auguro di no perché se si spegne la pirolitica sono cavoli amari va bene vi saluto poi vi dico poi nel prossimo video vi faccio vedere il seguito e ho chiuso anche per vedere quanto quanti gradi se si può fare qualcosa nel forno che parte ora vediamo ecco da 70 80 gradi che non c'è non credo che vada 70 80 gradi e ora vediamo un po va bene io e se vi è piaciuto il video e vediamo in seguito di farne un altro con il con i residui del esattamente quello che rimane vi faccio vedere lo sapete che io non non vi racconto favole quindi vi faccio vedere esattamente come funziona e quello che è rimasto sotto quali erano sei accensioni quindi rimasto anche pare però dentro da ieri sera proprio la mattina ho trovato solo quei chicchini lì e la cenere poiché è andata sotto va bene vi saluto buona giornata a tutti a presto col prossimo video ciao ciao ciao